Abbiamo deciso di investire i fondi della regione Puglia, che la regione Puglia ci ha concesso, per aprire sei biblioteche, piccole biblioteche diffuse sul territorio, che hanno una caratteristica. Oltre ai libri cartacei che già conosciamo, hanno tutti dei punti informatici che creano delle librerie digitali, in modo tale che i ragazzi possano accedere a un'opzione infinita di risorse culturali. Il progetto Polibris consentirà alla città di Bitonto di avere più sedi interconnesse per usufruire di tutti i servizi di una biblioteca aggiornata ai tempi del digitale. Si incrementeranno dunque i servizi culturali sull'intero territorio, nelle scuole bitontine, delle frazioni di Palombaio e Mariotto soprattutto, per consentire ai più piccini, ma anche agli studiosi, di avere a disposizione un enorme patrimonio librario, che partirà da testi provenienti da tutto il mondo, anche quello scientifico, e terminerà con la digitalizzazione delle opere conservate all'interno della biblioteca Rogadeo. La regione è orgogliosa di poter inaugurare la community library, che sostanzia pienamente quella che era la strategia di Smartin, cioè creare delle biblioteche innovative che sono presidio di coesione e inclusione sociale, soprattutto sono un punto di partenza per la formazione delle giovani generazioni. La missione dell'assessore Capone e del presidente Emiliano era rivolta proprio alla creazione di cittadinanza culturale, perché in contesti culturalmente avanzati si crea anche benessere, si crea saper vivere e saper fare. A disposizione di piccoli e grandi studenti anche specifiche modelloteche e tavolette grafiche da poter utilizzare all'interno del centro tecnologico di fabbricazione digitale di Bitonto, gestito dal Politecnico di Bari. Il Politecnico attraverso la nostra sede del Fab Lab inserisce una nuova infrastruttura che è la Digital Library. La Digital Library è un'evoluzione del concetto di biblioteca verso il futuro. Le Digital Library offrono un portale che trasmette la conoscenza da sede a sede e non solo, ha l'ambizione di evolverla con i nuovi strumenti di conoscenza, che sono anche gli strumenti della fabbricazione digitale. La Digital Library offrono un'evoluzione del concetto di biblioteca verso il futuro.